La sicurezza delle infrastrutture critiche delle città e dei territori nell'era digitale. Un momento di approfondimento all'Aquila organizzato dalla società SPE con il patrocinio di Enea e NGV che ha visto importanti relatori confrontarsi sul tema della sicurezza. Aspetto che all'Aquila assumono rilevanza ancora più grande. Un dibattito interessante dal momento che Enea e NGV hanno firmato da qualche anno un accordo di programma per dei centri interconnessi per sviluppare tecnologie per supportare le pubbliche amministrazioni e gli operatori nazionali nella protezione delle loro infrastrutture critiche. Noi diamo ovviamente delle indicazioni che possono essere legate al tipo di scuotimento, al livello di scuotimento. L'Aquila è diventato purtroppo un prototipo importantissimo dove si è sperimentata nuova tecnologia per edifici antisismici. Credo che la strada giusta sia quella che sta venendo percorsa. Credo però che quando si discute di strutture critiche si debba alzare quello che si dice l'asticella e cioè adottare dei criteri ancora più conservativi che vadano oltre lo stato limite di salvaguardia della vita per rendere queste infrastrutture le più sicure possibili. La società SPE con Enea e altri partner ha sviluppato e realizzato un progetto molto importante, il progetto NIS con fondi del PNRR. Il progetto NIS non è altro che uno strumento di alcune piattaforme che noi da anni praticamente odoperiamo per la tutela, la sicurezza delle aree urbane, dei territori e adesso anche delle infrastrutture critiche. Sull'infrastrutture critiche stiamo lavorando oramai da 4-5 anni ed è qualcosa di cui parlavamo adesso con il professor Doglioni molto importante sia per quello che è il rischio sociale ma anche per limitare al massimo le morti delle persone in caso di crisi o di shock. Presente anche l'agenzia SFISA che sta lavorando molto sulla digitalizzazione su una piattaforma di monitoraggio delle infrastrutture. Questo utilizzando nuove tecnologie, quindi dati per esempio satellitari, integrazione con banche dati come quelle finalizzate al monitoraggio del dissesso idrogeologico, banche dati messe a disposizione dalle infrastrutture, penso all'Ainop del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Quindi soltanto con una visione integrata di tutte queste piattaforme noi possiamo avere quegli elementi utili che possano darci lo stato di sicurezza dell'opera.